Non siamo mai andati a dormire Cioè state qua giù in spiaggia? No, no, stiamo venendo da Salerno e con il fumo non siamo andati proprio a dormire Ah, quindi avete fatto proprio... Siamo molto sbassati, vediamo un po' le facce Però è stata positiva, non è stata emozione, no? Sì, 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 assolutamente, è un posto magnifico Complimenti Il pubblico, come l'avete visto? Entusiasta, entusiasta E partecipare Nonostante l'ora era usata Cioè pure di dormire nella discoteca lì, sta di tutto Va bene, complimenti